Ciao, sono VeganWannaBe, supporto VeganOKChange perché ognuno di noi può fare la propria parte, ma soltanto insieme possiamo fare la differenza. È importante prenderci la responsabilità delle nostre scelte come singoli individui. Fanno tutti così non è un motivo sufficiente per perpetuare comportamenti scorretti nei confronti dell'ambiente e nei confronti degli animali. Le abitudini sono solo abitudini e quindi possono essere cambiate. Basta fare un passettino alla volta ogni giorno, rispettando i propri viti, cercando di migliorarsi costantemente. La cucina vegetale è una scoperta continua. Esistono tantissime spezie e ingredienti che si possono utilizzare per dare sapore e bilanciare i piatti. I miei preferiti sono porcini secchi, concentrato di pomodoro e miso. Questa combo renderà qualunque polpetta, zuppa, burger vegetale veramente strepitoso. Provare per credere! Grazie! 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 Grazie!